In questo video vi voglio riportare le parole che la madre di Antonella, una delle tresti vittime della strage di Altavilla, oppure chiamata anche come i demoni di Altavilla, ha rilasciato ieri nella puntata di quarto grado. Queste parole hanno diviso un po' l'opinione pubblica, perché tante persone sono rimaste un po' scioccate, un po' basite su ciò che ha detto la donna riguardo a Giovanni e riguardo la nipote. Sentiamo. Io, mia figlia, l'ho sentita la domenica 4 febbraio e dal lunedì silenzio totale. È impossibile che Antonella non mi abbia chiamato, o qualcuno gli ha tolto i cellulari. So che volevano fare questi gruppi di preghiera perché si sentivano soli, e su quello a volte io le dicevo Antone, non sono d'accordo che tu fai venire persone che non conosci, e lei magari su quello ci rimaneva male. Giovanni era un fanatico, ma questo si sapeva. Io so solo che da quando sono entrati questa maledetta, e voglio ripeterlo e ribadirlo, maledetta coppia, ha rovinato la loro famiglia. Giovanni, se non era manipolato, credo che non l'avrebbe mai fatto. Non era questo padre esemplare, nel senso che non stava dietro i bambini, no. Lui lavorava, arrivava a casa e basta. Bon, aveva fatto il suo dovere. Però non ha mai fatto mancare nulla per quello. Io, cioè, il buono di Giovanni, devo dirlo, è stato per noi come un figlio. Qua c'è stata una manipolazione a tutta la famiglia. L'unico che riusciva ad essere un po' ribelle era Kevin, e quando si è reso conto della situazione, ha iniziato a mandare messaggi ai suoi compagni, un po' a tutti, meno che a noi nonni. Vogliamo che venga fuori tutta la verità, e vogliamo una pena certa. A lui, parla di Giovanni, adesso daranno l'infermità mentale, ma lui è sano, per cui problemi non ne ha. Si deve fare tutti gli anni che gli danno, soprattutto quelli, anzi, loro devono prenderne pure di più. E riguardo la nipote, la signora dice, A me è crollato il mondo addosso quando ho saputo che mia nipote era indagata, però ho detto no, devo capire. Io non posso condannare subito mia nipote, anche se ha sbagliato, perché ha sbagliato e deve pagare. Però io, mia nipote, non l'abbandonerò mai. È sempre mia nipote, l'unica cosa che mi rimane ormai di mia figlia. Queste sono le parole della madre di Antonella. Come vi dicevo, hanno diviso un po' l'opinione pubblica, lasciando alcuni perplessi. Aspetto comunque di sentire la vostra qua sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video news. Grazie a tutti.